51 le imbarcazioni scese in acqua per la prima edizione del trofeo scalera mare calmo e un vento debole direzione sud sud est hanno accompagnato gli equipaggi che hanno deciso di partecipare alla manifestazione organizzata dal cusbari andrea scalera 37 anni ha perso la vita in mare mentre faceva kitesurf nel novembre del 2013 dopo le veleggiate per ricordare il giovane amante del mare nel 2014 nel 2015 il centro universitario sportivo ha condiviso con la famiglia di andrea la volontà di strutturare l'evento con una doppia finalità agonistica istituendo il trofeo e sociale tramite una raccolta fondi in favore della onus emergency in particolare quest'anno con i fondi raccolti per la regata sarà acquistato un generatore elettrico che andrà ad alimentare il nuovo progetto mobile altbox sullo specchio d'acqua tra bari e torre a mare le imbarcazioni delle classi orc libera e multiscafosi sono sfidate con sano agonismo il trofeo andrea scalera libera emergency overall real time è stato conquistato da giuseppe chiaravolo con l'imbarcazione obelix del cusbari invece natale lattanzi con l'imbarcazione del zamore del circolo velico onda buena è andato il trofeo challenge prima edizione andrea scalera premiati nel corso della serata i primi tre di ogni raggruppamento dal presidente vicepresidente del cusbari giuseppe seccio e beppe angiulli e dal presidente della fiv regionale pugliese alberto lategora